Che l'Italia sia un paese di vecchi è cosa nota da anni e confermata ancora di recente dall'annuario ISAT che ha assegnato al 2018 il nuovo minimo storico delle nascite dall'Unità d'Italia pari a 439.747. Di pari passo sempre l'ISTAT fa emergere come in Italia 7,4 milioni di famiglie, circa una su tre, vivano di pensione. Il che significa che gli assegni sono la principale fonte di reddito in un'epoca dove vanno di moda i cosiddetti lavoretti e dove sono di fatto i nonni a fare da paracadute con la loro pensione a figli e nipoti. Quanto entra in casa con questo ammortizzatore sociale? Una media di 1000 euro al mese, ma c'è una percentuale, il 12%, che non supera i 500 euro. Solo un pensionato su quattro ha invece redditi superiori ai 2000. Considerato poi che spesso si condivide l'assegno pur vivendo sotto tetti diversi, la situazione è ancora più stratificata. La presenza di un pensionato in un nucleo familiare più fragile, rappresentato da genitori soli o da altra tipologia di nucleo, consente quindi di non cadere in povertà. Una parola che spaventa, ma che nella quotidianità si presenta molto più spesso di quanto si possa immaginare. I numeri Istat parlano di 16 milioni di pensionati nel 2018, con diseguaglianze anche di genere nella distribuzione delle pensioni. Quelle delle donne, su cui gravano anche carriere discontinue, sono più basse. Soltanto il 13% si colloca fra i redditi più elevati. Al contrario, gli uomini per il 15% ricevono redditi bassi, mentre il 27% li ha più elevati. Divari che si riflettono pure sul territorio. Il nord assorbe metà della spesa, con renditi più bassi perché risiede in particolar modo al sud, dove sono più diffuse le pensioni assistenziali.